Che caldo, poca, ho fame, ma con questo caldo, che cosa posso mangiare? Ci vorrebbe una merenda molto energetica e molto sana. Babbo, c'è il pane? Sì, Andri. Fammelo col salame. Ma Andri, te lo farei anche col salame, ma siamo a Carpegna, abbiamo il prosciutto di Carpegna dopo. Quindi Andri, te lo faccio col prosciutto o col salame? Con il prosciutto, ovviamente. Ok Andri, fra un po' te lo porto. Tieni Andri. Grazie. Io vado su, ciao. Ah, che cosa c'è di più buono? Del pane. E poi, con l'aggiunta del prosciutto più buon d'Italia, è ancora meglio. Andri, è buono il pane l'ora? Sì, molto. E il prosciutto è una meraviglia, giusto? Giusto. Ricorda allora ai nostri amici cosa c'è nel mese di luglio, lo devo fare io? Certo. Ragazzi, vi ricordo di venirci a trovare il 20-21-22 luglio a Carpegna, per la non edizione della festa del prosciutto di Carpegna dopo. Non mancate, un saluto. Se viver meglio vorrai, prosciutto Carpegna dopo, mangerai. Ciao! Ah! 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 Ah ah! Ah ah! Grazie.